molto bene allora adesso vediamo insieme come funziona come si utilizza l'emulatore final barn alfa io so che qualcuno di voi me l'ha chiesto e allora eccomi qua e ve lo spiego prima cosa apriamo il nostro browser preferito io uso sempre firefox e vi ricordo che sono sotto windows 10 e scriviamo su google final barn alfa questo qui è il primo sito che viene fuori quindi www.fbalpha.com entriamo dentro ok questo è il sito ufficiale dell'emulatore allora qua in un page abbiamo le release diciamo che sono state fatte le novità abbiamo la sezione qui in alto download clicchiamo qui e qui possiamo scegliere tra varie versioni allora io tenendo conto che ho il sistema operativo a 64 bit andrò a scaricare la versione windows 64 bit questa qui e niente semplicemente clicchiamo sopra scarichiamo il file non ricordo quanto pesa poco 4 mega 81 adesso io prendo il file lo porto sul sul mio desktop e solo per comodità e dopo voi lo potete mettere dove volete in qualsiasi posto del vostro computer a questo punto facciamo tasto destro sopra estrai i file in fba in questo caso 64 eccetera eccetera perché appunto ho scaricato la versione 64 bit in modo che lui ci crea una cartella eccola qui e all'interno noi troviamo tutti i file che ci sono al momento diciamo perché dopo comunque vedrete che si creeranno e andranno a creare altre cartelle torniamo un attimo sul sito perché volevo verificare punto vedere un attimo cosa c'è quindi lo download siamo a posto supporto about bugs problemi contatti qui non c'è niente di che galleria qua ci fa vedere alcuni giochi forse anche tutti quelli che emula comunque per chi non lo sapesse alla fine questo emulatore emula principalmente giochi arcade quindi solito meme diciamo i soliti giochi che girano su meme non so se se li emula tutti quanti come il meme lo possiamo anche chiudere a sto punto perché siamo a posto e anche qualche altra console qualche computer comunque adesso noi lo vediamo dall'interno allora apriamo la cartella final barn qui abbiamo il file in questo caso fba64.exe e facciamo doppio clic allora ci dice allora qui ci dice praticamente ok che dice che sembra che sia la prima volta che viene avviato final barn e lasciamo stare qua dice un po' di cose ma noi gli diamo l'ok qui scorriamo giù o comunque spuntiamo questo I understand quindi che ho capito se no non possiamo andare avanti e gli diamo ok ok lui comincia vedete a fare la scansione delle roms ma in realtà noi non abbiamo roms quindi è anche un po' una cosa secondo me che non ha tanto senso fare partire l'emulatore già con la scansione delle roms e quali roms? se dobbiamo ancora scaricarle quindi gli diamo tranquillamente cancel e lui si apre quindi questa qui è tutta la nostra finestra vediamo se posso ridurre un po' no resta così mi sa beh tanto non cambia niente allora adesso che ho fatto partire l'emulatore vedete all'interno della sua cartella vedete quante sotto cartelle si sono create avi coleco neogeo screenshot più o meno sono sempre le solite cartelle che sono abituati a vedere no? qui è praticamente ha suddiviso lui già per sistema più o meno però allora consiglio e comunque allora ci servono le roms e ovviamente siccome che emula anche giochi neogeo e altri giochi maim maim io li chiamo giochi maim perché girano su maim abbiamo bisogno anche di alcuni bios ok? quindi principalmente quello del neogeo come primo allora io direi di fare allora una cartella roms c'è già è già presente quella qui chiaramente è vuota però io farei per andare meglio un'altra cartella bios quindi tasto destro nuova cartella la chiamiamo bios ok quindi ovviamente all'interno della cartella bios andrò a inserire bios allora lo posso anche fare subito quindi bios adesso qui mi avevo già preparato dei file qui quindi voi vi scaricate i bios del neogeo per esempio prendo i bios del neogeo e li inserisco dentro la cartella bios quindi occhio che praticamente i bios del neogeo comunque devono restare zippati in questo formato e con questo nome soprattutto ed è lo stesso formato è lo stesso nome che usa il maim quindi neogeo.zip altrimenti non riesce a vederli di final barn torniamo indietro qua passiamo anche a questo punto inserire delle roms io ho scaricato praticamente ho scaricato un gioco neogeo un gioco maim quindi snow bros vuol dire uno neogeo no bros un gioco maim generico e poi in questo qui Chicago Syndicate è un gioco del game gear ok così tanto da vedere un attimo due piattaforme principali quindi arcade e neogeo diciamo maim neogeo e dopo appunto un game gear perché comunque dopo emula qualcos'altro ma dopo la procedura è la stessa per tutto quindi io prendo questi file e li vado ad inserire dentro la mia cartella roms qui dentro è vuota vedete inserisco qui allora adesso facciamo partire no è già partito l'emulatore era già pronto comunque apriamo l'emulatore facciamo game qui possiamo fare load game ecco qui ci chiede praticamente dei percorsi se noi guardiamo possiamo arrivare fino addirittura 20 percorsi diversi per le roms tenete conto che i percorsi per le roms si riferiscono anche ai percorsi per i bios quindi il consiglio mio è sul primo percorso il numero 1 gli diamo il percorso della cartella bios quindi browse andate alla ricerca del vostro percorso corretto quindi il mio è sul desktop dove siamo quello qua siamo già su desktop dunque final barn alfa fba64 apro e qui trovo la cartellina bios eccola qua e li do ok ok su percorso 2 buff 2 a questo punto comincio a dare i percorsi ma io adesso ho fatto una cartella ho una cioè ho fatto c'è la cartella roms e metto tutto lì dentro se voi volete fare le cose fatte a me bene allora se avete i disgiocchi che ne so appunto game gear allora fate vi fate un percorso sulle roms game gear voi fate magari un altro percorso sulle roms non c'è un altro percorso sulle roms dipende dall'hardware così avete le cose separate altrimenti vi trovate una cartella roms con tutti quanti con tutte piattaforme diverse all'interno e fate anche fatica voi dopo a capire ma che cioè quella zip lì quella roma che piattaforma si riferisce quindi è solo per avere un po' di ordine adesso per andare bene perché comunque devo fare un tutorial uso la stessa cartella per tutto quindi al percorso 2 in questo caso vado a linkare la cartella roms quindi final barn fba64 roms eccola qui ok quindi ho su 1 ho messo il bios potete metterlo dove volete solo per comodità su 2 ho messo le roms e gli diamo ok lui comincia a fare la scansione lasciamo un attimo che vada ok la scansione sta per finire vediamo cosa succede dovrebbe aprirsi un'altra finestra eccola qua perfetto ok allora come funziona come è gestito il discorso roms allora qui vabbè abbiamo una preview e title sono delle anteprime con le immagini no perché questo qui è una specie di launcher diciamo quindi noi su opzioni vedete che qui sotto select game per esempio non c'è niente però io ho inserito dei giochi quindi dovrei vederti in realtà non li vedo perché qui vedete non è spuntato nulla io devo mettere su opzioni qui show available come minimo devo avere show available e diciamo mi può andare bene anche così ok lasciamo pure così al momento dopo e qui possiamo qui su roms dire comunque possiamo andare a modificare i percorsi delle roms che abbiamo fatto che abbiamo dato qui con scan roms quando poi andremo ad aggiungere un gioco una rom nuova dovremo fare una scansione nuova chiaramente e qui abbiamo ancora degli altri filtri vedete qui sotto hardware questi qui sono praticamente le cose gli hardware le cose che riesce ad emulare quindi stiamo parlando di Capcom Cave Capcom 1 2 3 e poi vari giochi tipo quelli della Data East Galaxia Irem Kaneko Konami NeoGeo Pacma Polygame Master PGM Sikyo Siga Seta Taito Tecnos quindi Gen Gear vedete Mega Drive ecco più che altro non interessa questi qui sono vari giochi dopo che appunto abbiamo il Gen Gear il Mega Drive il PC Engine il SG1000 con l'Ecovision e l'MSX queste sono gli hardware e le piattaforme che riesce ad emulare questi qui sono i giochi che ho e che vede quindi chiaramente ho anche il NeoGeo MWS System questo qui sarebbe il BIOS ma voi adesso non fateci caso al BIOS e niente questi sono i giochi però prima di far partire un gioco andiamo a vedere un attimo le varie opzioni insomma cosa si può fare con questo emulatore quindi su Game abbiamo l'All Game poi si può anche giocare online con Kyler ma adesso qui non sto a spiegarvi tutto quanto se no non finisco più chiaramente ci sono i vari salvataggi quindi con Control F10 si salva con Control F9 si carica carica cioè riesce a far girare anche i giochi che ne ho già uccidì ok magari lì farò una cosa a parte video e qui abbiamo varie impostazioni però qui vi ripeto ormai cioè dovete dovete provarle quindi Select Blitter lasciate così ma potete sperimentare altre cose ma in realtà Blitter Option vedete qua si possono mettere le Scanlines io ho lasciato tutto com'è ok non sono andato a fare nessuna correzione assolutamente ecco fullscreen resolution orizzontale verticale quindi per i giochi orizzontali e per i giochi verticali 1920x1080 mi va bene perché comunque io vi ripeto cioè è bene sempre impostare il fullscreen con la stessa risoluzione che state usando col vostro computer quindi questo qui io sto usando un full HD perciò 1920x1080 mi va benissimo se avete che ne so 800x600 impostato 800x600 ma probabilmente lo farà anche in automatico comunque fullscreen resolution vertical sono quello per i giochi verticali tipo che ne so se non mi viene in mente sono quelli da sparare in verticale in navicelle lo stesso 1920x1080 ci sta comunque sempre in linea con il vostro desktop qui dopo basta e non ho toccato altro in realtà non ho veramente non ho lasciato ho lasciato tutto così non ho avuto nessun problema audio lo stesso non ho toccato niente lasciate stare tutto com'è non c'è bisogno di andare a toccare nulla input qui lo stesso dopo con il gioco vedremo basta qui dopo opzioni vabbè ma qua dovete sperimentarle un po' voi tanto a me interessa che si veda bene che si senta bene e che si riesca a usare un joypad un controller insomma di qualche tipo quindi il resto un po' vediamo se esiste anche l'italiano select UI language ma può essere che ci sia qualche pacchetto di lingua ma non mi interessa perché tanto è un muratore come tutti gli altri insomma quindi io qui non non vi farei cambiare nulla impostare proprio nulla va bene così quindi abbiamo impostato percorso e abbiamo inserito delle roms con i bios insomma siamo a posto possiamo cominciare quindi game load game adesso proviamo buttiamo su un gioco tipo snowbrows no? fatto doppio click oppure seleziona primo play qui di fianco e lui dovrebbe partire ok poi qua i tasti di default se usate la tastiera sono come quelli del main quindi col 5 metto i crediti con 1 entro insomma e poi i soldi z x c insomma quei tasti lì adesso noi vediamo comunque come andare a impostare un controller quindi una volta che abbiamo fatto partire il gioco andiamo su input qui in alto e clicchiamo su map game inputs ecco qua quindi in questo caso vedete coin 1 e il tasto 5 già impostato start 1 tasto 1 e qui possiamo appunto vediamo se ho no vabbè questo qui dai facciamo sempre con questo con il mitico buffalo quindi clicchiamo qua doppio click vediamo sì e premiamo ok quindi giù doppio click mando in giù e lui lo prende sinistra metto un attimo quindi premo ok e dopo qui per quanto riguarda questo gioco mi da praticamente tre bottoni vabbè ma tanto sono due che funzionano proviamo questi li mettiamo tutti e tre ok siamo a posto poi player 1 mi basta insomma poi ci sono tutti gli altri tasti come fosse un po' come nel main proviamo il tasto tab la stessa cosa andiamo la configurazione dei tasti quindi per andare in test eccetera eccetera insomma qui possiamo dargli ok oppure possiamo anche dirgli save preset in teoria premendo save danno gli save preset lui dovrebbe memorizzarsi anche per gli altri giochi possiamo anche provarci a questo punto facciamo anzi no dai facciamo così gli do ok gli do ok e basta intanto poi vediamo ok sto aggiungendo il joy vedete e questo qui oh che cazzo e funziona tranquillamente comunque per andare in full screen adesso provo ad andare ma premiamo alti invio in teoria non dovrebbe spiattellarsi niente non so se mi vedete ancora bene in teoria si perché avendo tenere cioè avendo mantenuto la stessa risoluzione sia in del gioco rispetto a quella del desktop è giusto è tutto in full screen insomma a posto alti invio torna piccolo qua possiamo fare game load game adesso qui ad esempio un gioco neogeo proviamo con world heroes vediamo se parte doppio click poi parte tranquillo andiamo su input map game inputs e qui vediamo cosa c'è ecco qui ad esempio vi ho dato ok prima non si sono non si è mantenuto il salvataggio perché magari bisognava impostare un preset però comunque qui potete vederlo voi insomma e quindi possiamo fare la stessa cosa oppure vediamo se in questo caso ad esempio mi da vedete quattro pulsanti perché è un gioco neogeo chiaramente ha quattro bottoni e vedi no scusate ho fatto questo ok vabbè se l'ha posto vediamo se salvando un preset player one cosa ci dice qui keyboard proviamo proviamo a dare il 6 preset fare il 6 ok si è salvato il preset nella configurazione gli diamo ok così vediamo con il gioco successivo se effettivamente funziona anche quello 5 e si parte insomma anche qui si sente bene si vede bene si sente bene qua ad esempio possiamo mettere anche le scanlines come vi dicevo prima vediamo video scanlines al 50% vediamo se si vede ecco una cosa che ho notato però che se impostiamo le scanlines ad esempio lo schermo si riduce vedete che non è pieno totalmente invece lo togliamo gli diamo no effects così va a pieno schermo non lo so questo sia un bug dell'emulatore comunque a me personalmente le scanlines mi fanno anche cagare quindi non frega niente ecco insomma questo qua è andato anche lui adesso vi spiego exit game così usciamo dal gioco ok allora e questa è una adesso diciamo che sono stato fortunato nel senso che i giochi che ho copiato all'interno della cartella roms almeno questi due giochi erano già con il nome corretto perché il final barn ha bisogno della rom con il nome corretto voi direte che cazzo stai dicendo praticamente adesso lo vediamo se io faccio load game se fate caso qui manca un gioco cioè il gioco del game gear non c'è perché non c'è perché ha un nome diverso da quello richiesto dall'emulatore allora come faccio io adesso vado su show unavable così mi mostra quelli che anche quelli che non ho oltre a quelli che ho ma non me ne frega niente qui su search scriverò cca go vabbè ho scritto un po' eccolo qua questo qui è il gioco però se vedete è rosso io so di avere la rom all'interno ma se faccio doppio click mi dà errore e mi dice che non ccago non è stato trovato e manca insomma dei file no bene allora come facciamo allora torniamo su game load ecco ccago no siamo già qui qua sotto ci dà delle informazioni che per noi sono sono utili praticamente qui vedete game ok questo è ccago perfetto rom gg underscore ccago gg sta per game gear quindi qua ci fa capire che si tratta comunque di un gioco game gear ok e questo qui praticamente ccago è il nome dello zip della rom quindi deve essere nominato ccago punto zip altrimenti non funziona infatti se io rifaccio doppio click ve lo dice anche qui vedete ccago was was not found non è stato trovato quindi vuol dire che la rom di quel gioco lì deve chiamarsi ccago punto zip allora adesso torno nella cartella roms qui vado sul gioco ccago syndicate e lo chiamerò appunto solo ccago quindi tolgo teniamo anche minuscolo che non si sa mai siamo più sicuri ok in teoria adesso se io faccio partire l'emulatore gli faccio fare una scansione nuova game load qui avrò show available ok e manca ancora ccago perché comunque dovevo fare appunto questa scansione no clicco su scan roms ok sta per finire vediamo se adesso mi appare ccago syndicate eccolo lì ccago syndicate e dopo ok qui possiamo farlo partire in teoria dovrebbe andare se faccio doppio clic dovrebbe partire infatti vediamo su andiamo subito su praticamente su input map game inputs così andiamo a verificare anche il discorso del preset quindi in teoria player 1 use preset ok player 1 clicchiamo su use preset ah ho capito allora il preset funziona solo per piattaforma specifica quindi se vuoi se impostate su quei giochi game gear allora caricate il preset e funziona adesso prima ho caricato un gioco arcade quindi chiaramente non funziona qui ma funzionerà solo per i giochi arcade vabbè comunque quella è una cosa che potete provare voi qui chiaramente gli do sempre i tasti sono due tasti ok non è anche che gioco sia sto qua vediamo cazzo di gioco cazzo di gioco vabbè comunque adesso vediamo se vi ho scambio intero si vede bene funziona bene per quello dai però un'altra cosa che ho notato che infatti non mi garba molto vedete qui mi è sparito anche un altro gioco prima c'era invece world heroes ad esempio sono andato via nonostante qui sia spuntato neogeo infatti ho notato che secondo me ha qualche bug su questo qui è un launcher un suo launcher interno secondo me è un po' buggato però se dopo voi avete tipo un launch box ve ne fregate insomma non è non avete bisogno di utilizzare questa interfaccia qui ovviamente e ma direi per quanto riguarda la sezione qui roms va bene così poi qui vabbè a parte i giochi che non avete potete visualizzare anche i cloni perché li nasconde e basta il resto va bene così insomma non importa e ok basta il resto appunto ho detto un po' tutto insomma non è è un emulatore semplice da utilizzare non c'è niente di così complicato l'unica cosa appunto è il nome della della rom che deve essere deve essere corretto insomma altrimenti Final Burn non non lo trova dopo detto questo io il Final Burn è un emulatore che non utilizzo perché non non mi interessa anche perché uso il meme quindi uso il meme per i giochi arcade per altre piattaforme uso altri emulatori tipo il Bizoc perciò è una cosa in più che sinceramente non è un emulatore che non mi interessa forse pecca leggermente se non sbaglio però dopo sono a mio orecchio pecca un po' sull'audio forse mi sembra molto molto più perfetto quello del meme rispetto a questo qui però vabbè sono tutti i dettagli dopo comunque potete provarlo se vi piace ecco e basta allora quindi se vi è piaciuto il video mettete un like se vi piacciono i video che faccio iscrivetevi al canale dopo se avete dubbi problemi incertezze mi scrivete nei commenti io di solito rispondo a tutti insomma finché appunto i messaggi non ho una mole di messaggi così grossa da non starci dietro perché e e basta allora con questo vediamo se riesco a muovermi un po' così faccio il finale mentre questo stronzo cammina che cazzo fa qua con questo video tutorial è tutto non riesco a capire come cazzo ah tenendo premuto forse per ogni questo è tutto e mamma mia che gioco e niente ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti